gentili telespettatori buona giornata e così giuseppe detto beppe sala perché a sinistra vanno di soprannomi che è un piacere quindi giuseppe detto beppe sindaco di milano si rivolge a marina berlusconi perché perché marina berlusconi proprio l'altro giorno ha detto che lei è vicina alle posizioni intelligenti della sinistra non ha detto che le posizioni della sinistra sono intelligenti ha detto che è vicina alle cose che la sinistra dice però solo quando sono intelligenti molti si sono inalberati ma ha detto una roba normale insomma sta dicendo che non è una tifosa che non prende parte a priori con le tifoserie di destro di sinistra ma che se una persona o se un partito a sinistra dice una cosa intelligente lei approva la cosa intelligente mi sembra una cosa intelligente quello che marina berlusconi ha detto su alcune cose che la sinistra può dire di intelligente allora a sinistra hanno pensato che marina berlusconi fosse diventata adesso di sinistra insomma diciamo che c'è tanta ma tanta superficialità e allora così giuseppe detto beppe sala si rivolge a marina berlusconi sull'intitolazione a suo padre dell'aeroporto che da ieri è diventato milano silvio berlusconi dove scendi scendo al silvio berlusconi va bene quindi sala dice lei ha appena dichiarato che è vicina alle cose intelligenti che dice la sinistra vediamo se marina berlusconi reputa intelligente l'intitolazione a suo padre dell'aeroporto di malpensa e così lui dice a marina berlusconi intitolazione dell'aeroporto di malpensa atto politico contenta che tornino polemiche su suo padre ma che domanda è contenta che tornino polemiche su suo padre allora lungo post su instagram del sindaco di milano sull'intitolazione decisa dall'enac e qua già c'è un errore non è decisa dall'enac è decisa dal governo e ufficialmente l'enac sembra sembra che una mattina si è svegliata e ha trovato l'invasore si è svegliata e ha deciso malpensa perché non lo chiamiamo silvio berlusconi no è una è stato deciso dalle autorità politiche del paese che in questo momento governano però poi ufficialmente è l'enac che ha che diciamo che ha fatto le carte per per intitolare lo scalo lombardo all'ex quattro volte premier ma dice sala continuerò a far sentire la mia voce tipo la senti questa voce va bene e così la replica di fontana famiglia berlusconi era favorevole scusi fontana è favorevole perché era favorevole bisognerebbe dire la famiglia berlusconi è favorevole è favorevole non era favorevole va comunque così giuseppe detto beppe sala rompe il silenzio sull'intitolazione dell'aeroporto di malpensa a berlusconi e si rivolge alla primogenita del fondatore di forza italia dice cara marina beh adesso che marina berlusconi ha detto che è vicina eventualmente alle cose intelligenti che dice la sinistra diventa cara marina vabbè cara marina in seguito la reputo da sempre una persona intelligente beh meno male e le sue recenti dichiarazioni me ne hanno dato conferma proprio quello che vi dicevo dato che lei dice che alcune cose che la sinistra dice sono intelligenti allora beppe sala aumenta la sua considerazione quindi diventano lei diventa un po meno cattiva ecco diciamo così dice lei ha vissuto sulla sua pelle quanto suo padre sia stato ma amato e odiato ma non era meglio aspettare far sì che gli animi si distendessero far leggere alla storia la vicenda di suo padre con più tranquillità perché dobbiamo tornare così presto a schierarci viste le modalità con cui questa decisione è stata presa davvero lei è felice che questo dibattito si riaccenda subito glielo chiedo nel rispetto comunque totale delle sue opinioni continuerò a sollevare la questione educatamente senza mancare di rispetto a nessuno è mio dovere farlo come certamente mio dovere occuparmi di tutte le altre cose che riguardano milano sala definisce l'iniziativa dell'intitolazione un atto politico e afferma anche se so benissimo che in questa faccenda giuridicamente posso far poco continuerò a far sentire la mia voce allora l'intitolazione dell'aeroporto è un atto politico è certo se no che cos'è un atto umanitario un atto burlesco che cos'è se il governo salvini meloni italiani decidono di cambiare il nome all'aeroporto di milano malpensa e chiamarlo milano silvio berlusconi se non è un atto politico che cos'è una magia abracadabra certo che è un atto politico il governo ha voluto dire alla sinistra noi prendiamo un aeroporto e lo intitoliamo al capo di forza italia scomparso l'anno scorso lo facciamo che vi piaccia o no anzi voi vi state lamentando e noi l'abbiamo fatto con decorrenza immediata perché avete visto che quando salvini ha annunciato il cambio del nome la sinistra si è infuriata e il giorno dopo arriva l'atto con decorrenza immediata così lo facciamo subito lo facciamo subito visto che voi esultate per la vincita della sinistra in francia visto che voi esultate per il 24 per cento del pd visto che voi esultate per i ballottaggi dove avete vinto dappertutto noi vi prendiamo l'aeroporto e lo chiamiamo silvio berlusconi tiè questa praticamente è il riassunto che sembra un po' sempliciotto ma è così e purtroppo la politica ha questo livello pertanto a volte sembrano delle sciocchezze ma cosa dici ma dai ma secondo te la politica ha ragione in questo modo ma è anche peggio quindi è un atto politico certo che è un atto politico non vi piace l'aeroporto silvio berlusconi? non vi piace prenotare devo prendere un aereo dal silvio berlusconi al new york? ecco se non volete prendere l'aereo dall'aeroporto silvio berlusconi quando andrete al governo con l'enac cambierete il nome lo chiamerete non so l'aeroporto giuseppe garibaldi l'aeroporto francesco baracca chiamatelo un po' come salvo d'acquisto chiamatelo un po' come volete ecco quindi che sia un atto politico mi sembra che sia scontato che è un atto politico perché se no che atto è? un atto di che? comunque nelle parole di Sala non è mancato l'apprezzamento le recenti dichiarazioni di Marina Berlusconi ecco perché Marina Berlusconi ha detto se parliamo di diritti mi sento più in sintonia con la sinistra di buonsenso perché ognuno deve essere libero di scegliere anche qui vede si torna alla questione di fondo quella su cui non credo si possa arretrare di un millimetro la questione della libertà probabilmente Marina Berlusconi si sente investita anche della responsabilità del padre che aveva quando era in vita nel tenere a bada gli estremisti che stavano in coalizione con lui oggi che non c'è più lei si sente di dire è importante, fondamentale la questione della libertà a buon intenditor poche parole arrivederci a tutti e grazie grazie a tutti grazie a tutti